Carolina D'Addario non è morta per cause naturali ma è stata uccisa da una coltellata lo scorso 23 dicembre. Nella serata di ieri è arrivata la svolta sul caso della 84enne di Gissi trovata morta in casa. In stato di fermo un 59enne di Palmoli, Flavio Giovanni Meo, domiciliato a Gissi. Dopo l'autopsia tenutasi ieri a Chieti, in serata i militari della locale stazione e quelli di Vasto, su disposizione della procura vastese, hanno fermato il sospettato. Infatti dall'esame autoptico eseguito dal medico legale della ASL Pietro Falco, emerso che a causare la morte dell'anziana è stata una ferita da arma da taglio sul fianco sinistro con lacerazione di un polmone. Il 59enne è stato interrogato durante la scorsa notte dal PM Silvia Dinunzio, titolare dell'inchiesta e da successiva perquisizione domiciliare, è stata recuperata sia la presunta arma utilizzata per uccidere l'anziana, sia gli effetti personali che erano stati sottratti alla donna. Si tratta di monili in oro, una fede degli orecchini e una collana. Ad incastrarlo sono state le immagini della videosorveglianza comunale che lo hanno ripreso nei pressi dell'abitazione dell'anziana in Corso Remo Gaspari. L'uomo è accusato di omicidio volontario, rapina e porto ingiustificato di armi da taglio. Per uccidere la donna ha utilizzato un coltello da cucina. Ulteriori dettagli saranno forniti nelle prossime ore. Il 59enne, in attesa della convalida, sarà associato presso il carcere di Vasto.